Il primo piano è il premio Nobel per la pace, giusto riconoscimento ad un'intera vita dedicata a soccorrere coloro che più duramente sono stati percossi dal destino. Egli ha creato innumeri villaggi nei quali ha raccolto i profughi europei, dando loro un nuovo motivo di speranza e di fiducia in un domani migliore. Grazie